Mi chiamo Flaviano Merlo, sono un geologo professionista, mi occupo generalmente di opere infrastrutturali e ho partecipato in passato anche a varie commissioni locali edilizie, sia commissioni locali per il paesaggio. Ho partecipato al corso sul paesaggio e l'amministrazione e la sua dimensione giuridica in questa università in cui ho avuto modo di poter ampliare le mie conoscenze generali, di aver potuto incontrare figure professionali di diverse estrazioni provenienti da varie parti d'Italia e che sicuramente hanno portato dei contributi di cui farò tesoro nella pratica professionale futura. Il corso mi ha consentito di avere un aumento notevole delle mie preparazioni soprattutto nelle discipline giuridiche e lo considero di fondamentale importanza per il proseguire della mia carriera. Il corso si è concluso con una specie di tesina, quindi un elaborato personale o di gruppo in cui sono stati illustrati varie tematiche attenenti alle discipline che sono state illustrate durante il corso. Personalmente mi sono occupato delle possibilità che possono dare le scienze geologiche alle tematiche del paesaggio e alla sua amministrazione.